Buongiorno, benvenuti per stare la segna stampa di oggi 23 dicembre, tra poco siamo a Natale, tanti auguri, se non avete ancora fatto i regali mi raccomando le tasse invisibili, è un buon consiglio disinteressato per fare l'ultimo regalo, quello che non sapete come risolvervi. Ma insomma, oggi la notizia fondamentale, più che notizia fondamentale, il vero scoop si fa per dire è quello di Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, che intervista il governatore della Banca d'Italia, Visco, che non è neanche parente di quell'altro Visco, che voi ricordate, Ministro delle Finanze del PC e poi del PDS e poi di DS, insomma lo ricordate bene. L'intervista a Visco, io devo dirvi una piccola, devo fare una piccola puntualizzazione, è una di quelle interviste che mi sembra sia stata fatta a domanda e risposta scritta, quella che un tempo si faceva via fax, che noi mandavamo le domande via fax e quello rispondeva in via telematica dopo che era tutto ponderato fino all'ultima virgola, è lo stile Banca d'Italia. Ovviamente le domande ben fatte di, come si chiama, di Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, sono tutte rivolte all'ultima crisi che è la Popolare di Bari, tranne l'ultima sulla, diciamo, generica sulla cosa sta facendo questo governo che vi risparmio. E qui però la difesa di Visco è tutta quanta sulla rispetto delle regole formali e su quella si base la sua difesa. In realtà poi un piccolo dato sul quale giustamente si titola c'è, e cioè che i salvataggi bancari europei sono costati a Germania e a Olanda il 10% di costo di aumento del debito, mentre da noi poco più dell'1%. Quindi quello che vuol dire Visco è che noi siamo riusciti a vigilare talmente bene che non abbiamo appesantito il debito pubblico. I tedeschi e gli olandesi, i cattivoni invece, hanno aumentato molto di più il loro debito pubblico per dover salvare le loro disastrate banche, evidentemente non così ben vigilate. Ma il punto fondamentale sono due di responsabilità della vigilanza della Banca d'Italia, e cioè l'acquisto fatto quattro anni fa da parte della Popolare di Bari di un secchio che si chiama Tercas, e l'altro il management, cioè il fatto che abbiano rimesso dentro questo debustis, che io non so se piace o non piace, ma comunque evidentemente qualcuno lo critica. Sull'acquisto della Tercas la risposta di Visco è che l'esclusiva competenza da parte delle imprese bancarie nell'acquistare e nel vendere e nel fare la loro attività di impresa è dei loro organi. Cioè ci sta raccontando la favola che le banche fanno come cacchio gli pare, perché sono come la calcestruzzi SPA. Purtroppo non è così, e lo sa chiunque lavori nelle banche, chiunque abbia un po' di vertici, di mistichezza con i vertici aziendali, che prima la Banca d'Italia, oggi la Banca Centrale Europea, e come se rompono le palle su chi vuole comprare, e come si regolano, e come in termine inglese loro facciano moral suasion. Allora Visco non ci può dire oggi che la Tercas se l'è comprata la Popolare di Bari perché ha deciso la Popolare di Bari in perfetta autonomia, perché la Banca d'Italia fa come cazzo gli pare nel regolare le banche, nel vigilarle, e il suo ditino di moral suasion decide le fortune e le sfortune dei banchieri, e non ci può dire Visco che il ritorno di De Bustis, bene ho sbagliato che sia, non voglio entrare nel merito di questa roba, mentre la Tercas è sicuramente stato un disastro, sia stato semplicemente una opera fatta indipendentemente dai vertici di quell'azienda, perché quei vertici di quell'azienda, Iacobini, avrebbero tenuto il potere per i prossimi 500 anni. Se è arrivato De Bustis probabilmente una moral suasion di una parte della Banca d'Italia c'è stata, non è stata una scelta autonoma di un'impresa come fosse, non so, appunto, l'impresa del vostro vicino che fa come cavolo gli pare le banche non fanno come cavolo gli pare, perché la Banca d'Italia vigila, e quindi se si compra Tercas, e poi ricorda giustamente Visco una cosa che pochi di voi si ricordano e cioè che Tercas, in realtà sostanzialmente fallita, doveva essere comprata secondo me dal credo valtellinese, mi sembra il credo valtellinese di De Censi, quando si azzardò a dire che la voleva comprare, il titolo piombò in borsa, perché il mercato dice ma che siete scemi di prendervi quel secchio? Allora il credo valtellinese non se la prese perché dice a Banca d'Italia chi se la prende? Popolare di Bari in 20 giorni se l'è presa, allora ditemi un po' voi, secondo voi un po' di responsabilità della Banca d'Italia nella vigilanza in questa acquisizione non c'è stata? Insomma, secondo me questa difesa sempre sulle carte e sul filo delle regole è un po' ipocrita. Nel frattempo sulle concessioni autostradali oggi ci sarà un nuovo Consiglio dei Ministri per cambiare il famoso articolo 33 che è diventato nel frattempo 38 che vorrebbe fare un mazzo così ai concessionari autostradali. In termini giuridici è un po' complicato e soprattutto secondo me è complicato quell'automatismo che hanno inserito per cui se revocano una concessione stradeale automaticamente va all'ANAS. Automaticamente va all'ANAS. Perché questo secondo me è il punto fondamentale? Perché oggi la stampa con un tempismo straordinario ma con un pezzo altrettanto bello di Salvaggiulo Barbera ci spiega un report della Corte dei Conti, che sono lo Stato, quindi sono abbastanza parte in causa, in cui raccontano cosa è successo nelle concessioni autostradali. Mi sembra siano 22 le concessionarie private autostradali, di cui la più importante è l'autostrada per l'Italia. Insomma, in questi ultimi 5 anni ha avuto ricavi in crescita di un miliardo e sono a 6 miliardi. Hanno avuto un utile in crescita a 1,5 miliardi su 6 miliardi di concessione, 1 miliardo e mezzo di utili. Cioè, in realtà, in fondo, la cosa che mi fa veramente impazzire di questi nostri imprenditori privati è che capisco che è molto difficile fare le autostrade, gestire le autostrade, fare la concessione delle autostrade, ma tutto è molto difficile nella vita. E forse avere una concessione e poi avere tutti questi utili è meno difficile che inventarsi il temperino o inventarsi l'acqua calda. E quindi magari un pochino di investimenti in più, un pochino più di controlli da parte dello Stato nel farli investire ci vorrebbe. Tant'è che gli investimenti sono passati da 2 miliardi a 958 milioni nei 5 anni e che i lavori sono passati da 8 miliardi a 3,78 milioni. Poi si dirà, eh, i lavori, c'è la burocrazia. Sì, sono certo che c'è la burocrazia, ma come ci insegna Pasqualino Monti, il capo dei porti a Palermo, se ci sono i soldi, poi gli investimenti si riescono a fare. In realtà qui io immagino quanto siano state willing queste società autostradali e concessionari a fare i loro investimenti. Certo, tra gli imprenditori privati che fanno come cazzo gli pare e la politica che pretende d'amblè di togliere le concessioni c'è una via di mezzo. Io direi, ora che hanno le concessioni facciamoli un mazzo così, controlliamoli, bacchettiamoli e pretendiamo che investano i loro soldi. Non mettiamoli un ostacolo dietro l'altro. Ma comunque, sai, poi vai a vedere questi qui e questi che ci governano e capisci con l'intervista oggi di Costa al fatto qual è il mondo in cui siamo governati. Meglio con il PD che con la Lega, dice il ministro dell'Ambiente, ex generale della Forestale, passato per decreto al generale dei Carabinieri e dice se me lo chiedono mi candido in campagna. E glielo chiederanno sicuramente con questa apertura che ha fatto il PD. Ma il principio fondamentale è che il costismo, l'ambientalismo, questi burocrati, grandi generali che diventano ministri, sono quelli che bloccano questo paese. Detto questo, bloccando questo paese a buon conto poi le autostrade direi, ma sai, noi non possiamo fare nulla perché qualsiasi cosa che facciamo ce la bloccano. Dall'altra parte, poi, sono ovviamente ben contenti di essere bloccati perché non investono. Favolosa la storia del Daily Mail dei finti recensionisti di Amazon. Quando voi state per comprare qualche cosa, su Amazon ci sono delle recensioni dei prodotti che voi state comprando. Ci sono, secondo il Daily Mail, ma mi sembra abbastanza certificato, dei certificatori, e cioè ci sono dei signori delle società di marketing che pagano delle persone, 6.000 a Londra, 20.000 in Europa, una sola di queste certificazioni che si chiama AMZ Tiger, pagano delle persone per comprare dei beni e poi fare delle super recensioni così voi cadeate e dite, hai visto che belle recensioni, me lo compro quell'oggetto. Insomma, è la nuova frontiera del gioco delle tre carte. Non lo fanno più, diciamo, gli italiani un po' malavitosi, ma lo fanno i grandi strutture di marketing digitale che poi ti fanno comprare un bene, te lo restituiscono, te lo rimborsano e poi dopo ti danno 15 dollari per ogni recensione positiva che è fatta su quel bene, di modo che noi come dei cazzoni ci cadiamo e continuiamo a comprare quel bene. Fantastico. Nel frattempo, a proposito di robe fantastiche, è a proposito digitale questa storia di Grillo e Casaleggio. Grillo e Casaleggio si sono beccati 750 mila euro, ne abbiamo parlato ieri, per fare la pubblicità a Oni, a Moni, scusatemi, a Onorato, che ha Tirrenia e Mobi, che ha un monopolio di 72 milioni su alcune tratte, va bene? Si sono presi 720 milioni, come prende il mio sito? Cioè si prendono dei soldi per fare marketing, per fare, però, la Casaleggio Associati, oltre a fare marketing, hanno fatto anche, diciamo, strategie per uno che alla fine dipende dallo Stato. In questo caso, il fatto quotidiano, dice, rapporti con Onorato non è reato, grazie, né conflitto di interessi, grazie, ma non è opportuno. Cioè, quando lo fanno Movimento 5 Stelle e Casaleggio, non è reato, non è conflitto di interessi. Quando lo fa Renzi, lo stesso Onorato gli fanno un culo così, perché siccome Onorato ha finanziato anche la fondazione Open, beh, in quel caso è da andare in galera. Se invece finanziano gli amichetti del fatto, cioè Casaleggio e Grillo, zitti e muti, dicono che Onorato non è reato, né conflitto di interessi così. Ma vi rendete conto che ieri, proprio ieri, abbiamo visto che non è passato al Consiglio dei Ministri la riforma digitale della pubblica amministrazione firmata anche da Casaleggio, lo stesso che prende i soldi 600 mila euro da Onorato, che poi ha la concessione della Tirrenia e poi vi aggiungo io i cui libri rischiavano di finire in tribunale perché il suo creditore Unicredit dice che i suoi conti non reggono. È una storia straordinaria. Difatti il giornale ben dice, per i giornali 700 mila che prendono Grillo e Casaleggio sono diversi rispetto a quelli che prende Renzi, che sono molto di meno. Fantastico poi il giornale di oggi per chi tira fuori una ricerca della Columbia University che dimostra come in Italia la maggioranza dei giornalisti sono di sinistra. Finalmente ci siamo arrivati. Oggi ne parla Mascheroni, ma c'è una ricerca, una ricerca della Columbia University e questo è il motivo per il quale quando dei programmi come quelli di Rete4 stanno andando bene e non sono chiaramente di sinistra, come il mio, come quello di Del Debbio, come quello di Giordano, ma anche la Palombelli che è una donna che nasce a sinistra ma che è semplicemente equilibrata, non è quella roba là! Beh, insomma ci considerano dei cazzoni. Cresce la voglia di piazza, è l'idea che piace oggi alla Repubblica, che è entusiasta delle Grete, delle Sardine. Vengo anch'io il titolo di Repubblica, insomma invece noi non ci andiamo. Invece Salvini vi segnala la verità, dice oggi è la democrazia è sospesa e Mattarella tace. E' il primo timido attacco che fa, complice un'intervista fatta da Mario Giordano, alla verità. Matteo Salvini che inizia a prendersela su con Mattarella perché dice ma perché quale cavolo di motivo, sia per la finanziaria sia per le elezioni, questo Parlamento non si smuove. Tra questo inoltre dice che il processo che dovrà subire, se dovrà mai subirlo, è una, come si chiama, farsa. Alta velocità, nel frattempo quando parliamo di infrastrutture, secondo una inchiesta della stampa di Barbera che ha fatto questa e non quella di Salvaggiulo che vi ho detto prima, sempre più treni ma sempre più in ritardo, ve la segnano. Vi segnalo Giuliano Ferrara, fantastico, che ci parla della vodka Atomic, viene fatta con la segale, che viene coltivata a Cernobil e si chiama Atomic e dice, ed è stupendo il pezzo di Giuliano Ferrara sul foglio oggi, è una specie di apoteosi contro quella specie di catastrofismo millenaristico per cui Cernobil è l'inizio della fine del mondo, in realtà sono morte soltanto una decina di persone per l'insipienza del governo e del regime comunista che non voleva dare conto di quello che stava avvenendo e per quello muoiono. Ma insomma il disastrismo ambientale che ha fatto sì che i francesi si tenessero in nucleare tutto il mondo, compreso noi, lo mollasse, è una di quelle follie che oggi possono essere battezzate dalla grande nuova vodka Atomic. Regaliamola a Ferrara, ma se mi posso permettere anche a me. Ultima storia di giornata è questa tragica morte di due ragazze minorenni a Roma che avevano attraversato Corso Francia, i giornali tutti titolano su due cose, sul fatto che il giovane che le ha investite fosse positivo ai test dell'alcol e della droga e che fosse il figlio di Paolo Genovese, un regista famoso. In realtà però andando a leggere i giornali in questa storia tragica bisogna raccontarla come sta. Beh insomma queste ragazze avrebbero passato secondo alcune addirittura non sulle strisce pedonali e stiamo parlando di Corso Francia. Chiunque conosce Roma passare non sulle strisce pedonali a Corso Francia è una cosa da folli suicidi. La seconda cosa pioveva, la terza cosa sarebbero passate con il rosso loro e quindi quella macchina che le ha uccise tragicamente è passata col verde. Che cosa è successo? Una macchina ha frenato e questa che passava dall'altra parte, quella del figlio di Genovese, sempre ovviamente stavamo parlando di un semaforo verde, non ha fatto in tempo a vederle perché le due ragazze sono passate così, le ha investite e le ha uccise. Apre di cielo sulle morti ovviamente tragiche dei ragazzi per strada, ma apre di cielo sulle droghe, sull'alcol e sulla colpevolezza di un ragazzo che rischia fino a 12 anni. Le altre due rischiano niente, sono morte purtroppo ed è una tragedia. Io dico soltanto prima di attribuire le colpe e le responsabilità, stiamo tutti calmi e attenti perché si tratta di una tragica fatalità che può essere derivante dalla colpa o dal dolo di un guidatore o anche dalla drammatica situazione per cui queste ragazze si sono trovate nel posto sbagliato, al momento sbagliato, creando un grande pericolo per se stesse come si è visto. Io non voglio aggiungere altro, siamo a Natale, non dobbiamo fare casino, non si urla, tutti tranquilli, veramente una disperazione per i genitori a cui non si può che essere vicini. In questo momento vi do appuntamento domani, come sempre la zuppa non va mai in vacanza, quello che vedete dietro è la montagna, ma forse non siete bene. Ciao!